Ciao a tutti, siamo ancora qui su VKT Fit TV, sono Fabrizio Ferri, ormai mi conoscete, sono il vostro personal trainer. L'esercizio che tratteremo oggi sono gli slanci posteriori e diagonali. Questo è un ottimo esercizio per sviluppare il gluteo grande, piccolo e medio. Ovviamente lo slancio diagonale per sviluppare un po' di più, per stimolare un po' di più il gluteo medio, mentre quello posteriore è il classico per il grande gluteo. Potrete prendermi ora all'opera con la mia amica Triana, mentre le mostro lo slancio posteriore, la gamba d'appoggio leggermente piegata. Perdonatemi il pantalone scuro, ma non dovevo essere presente nel video. Posteriormente torno, mai riposo, porto la punta del piede verso l'esterno e faccio, come in questo caso, lo slancio diagonale. Importantissima è la postura della schiena, quindi sempre mia, mai forzare l'angolo della lombare. Scendo lentamente senza mai riposare, indirizzo correttamente il piede all'esterno e faccio lo slancio diagonale. Eseguite quindi 3 serie per 30 ripetizioni a gamba, fate la gamba destra, poi la gamba sinistra e un minuto di recupero. Dopodiché ripartite con la serie iniziale. Grazie a tutti per aver visto il video, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e condividetelo sul vostro profilo Facebook. Alla prossima e buon allenamento a tutti!